allora fuori è una giornata uggiosa e piovosa e la vostra gattaluna è qui e niente prima di andare a prepararmi un tè mi mancavano proprio le ultime pagine di questo libro jonathan little le benevole edito in audi allora è un volumone come si può vedere è un grosso volume di quasi mille pagine quindi è un libro abbastanza impegnativo anche nel peso ma perché ve ne volevo parlare su questo sfondo così abbastanza autunnale è un libro non esito a dire meraviglioso forse forse uno dei più belli che io abbia mai letto l'inquadro solo il libro perché voglio che sia un pochino protagonista di questa piccola diciamo breve chiacchierata che volevo fare con voi su questo volume è un libro molto impegnativo e molto particolare di argomento estremamente drammatico quindi in questo video insomma è l'argomento è veramente serio jonathan little è uno scrittore credo attualmente sia un signore di mezza età presumo è new yorkese e ha scritto questo libro nella sua prima stesura credo una decina di anni fa adesso non vorrei essere proprio totalmente imprecisa ma credo sia proprio così jonathan little nata new york nel 67 le benevole la sua prima opera letteraria scritta in francese e pubblicata nell'agosto del 2006 esatto ha ottenuto il prego anco e le grand prix du roman dell'academy francese e in corso di tradizione in tutte le principali lingue questo adesso che ho comprato io forse questo volume è stato sempre stampato qualche anno fa comunque dicevo chi sono le benevole le benevole sono sostanzialmente sono le erinni quelle che erano le erinni per i greci ed erano le furie per i romani erano sostanzialmente quelle donne mostruose con la terra figurate spesso insomma come mostri con serpenti al posto dei capelli e che tormentavano chi si era macchiato di delitti particolarmente orrendi ammesso che ci siano dei delitti che non sono orrendi ma soprattutto chi aveva colpito i propri cari la propria famiglia la propria gente e le benevole o eumenidi è un altro nome delle erinni che sostanzialmente per le veri vanno chiamate le benevole per tenerle buone come dire voi siete buone non è una cosa che come dire che nei confronti degli dei nell'antica grecia era abbastanza comune questo lo dico come così un piccolo retaggio di avere fatto il classico no ricordo che proprio un atteggiamento molto diffuso nella antica grecia era di tener buoni gli dei no di invocarli dicendo che loro erano buoni che erano benevoli e gli si offrivano cibo frutta a volte anche sacrifici di animali così con le benevole venivano chiamate eumenidi benché loro non fossero benevole affatto erano delle delle arpie delle furie tormentatrici di chi aveva commesso delitti dicevamo ora l'argomento l'argomento è sostanzialmente qui si parla della seconda guerra mondiale da un punto di vista veramente inedito perché a parlare in prima persona è un ufficiale delle ss cioè uno dei carnefici sostanzialmente che porta il suo punto di vista ora qualcuno ha definito questo libro giustamente scandaloso perché assume un punto di vista veramente particolare e straordinario forse nessuno l'ha mai fatto prima naturalmente la figura di cui si tratta è una figura immaginaria però diciamo serve credo all'autore per raccontare il racconto come si può vedere è lungo dettagliato e corposo quello che si apprezza è che non c'è una come dire una particolare insistenza o addirittura guai un compiacimento sulle crudeltà compiute sugli ebrei piuttosto che sugli omosessuali o su comunisti da parte del nazismo non c'è alcun compiacimento il punto di vista del protagonista del romanzo che questo giovane ufficiale maximiliano haue non so penso si pronunci così ma forse sbaglio il suo punto di vista è un punto di vista che noi siamo costretti ad ammettere anche se lottiamo contro questo siamo costretti ad ammettere che un punto di vista umano benché lui sia un nazionalsocialista sia un vero nazista ma è un intellettuale è un giurista che cerca in questa sua in questo suo essere intellettuale essere un giurista come se cerca disperatamente durante tutta la sua militanza nelle ss dagli anni trenta fino alla fine della guerra alla tragica caduta del reich lui diciamo è come se cercasse di prendere le distanze anche se più volte nel corso del romanzo lui si si dichiara colpevole no io sono responsabile lui dice anche se io in fondo ammazzato poche persone lui non è stato un tormentatore non è stato un seviziatore non è stato responsabile sì se non di alcune uccisioni che forse in guerra erano tragicamente normali però lui non c'è diciamo da una parte cerca di prendere le distanze col suo essere colto intellettuale raffinato ma dall'altra si assume su di sé la responsabilità ma attenzione un punto cardine di questo libro è che tutto volto a dirci guardate che voi voi che state leggendo non siete molto diversi da me perché se voi fosse stati al mio posto nella mia epoca come vi sareste comportati chiedetevelo e rispondete onestamente il libro racconta le sue il suo essere stato non faccio spoiler costretto in qualche modo dagli eventi ad entrare nelle ss perché sennò avrebbe rischiato grosso e questa è la sua storia i suoi contrasti con l'intelligenza nazista ma anche le sue grandi alleanze e il suo amico thomas che lo sosterrà e lo salverà una specie una sorta di figura quasi verrebbe da dire mitologica un deus ex machina che salta fuori nei momenti più difficili e di fatto poi lo salva e quindi lui entra nelle ss c'è tutto il racconto della sua militanza e quando vai lo mandano in ucraina quando andrà a stalingrado quando tornerà a berlino quando per altre vicissitudini andrà in pomerania poi tornerà a berlino ma poi sarà anche ferito gravemente sarà colpito da alcune malattie dovute a stress malnutrizione e quant'altro perché sicuramente tutti hanno sofferto certo con responsabilità diverse ma la guerra porta sicuramente sofferenza a tutti ai militari e ai civili e quindi niente le sue vicissitudini fino a quando torna in una berlino che già era stata lui l'aveva vissuta bombardata e devastata dei bombardamenti ma non era ancora nulla il peggio doveva ancora venire quindi negli ultimi giorni del reich lui si trova a berlino una berlino devastata dall'arrivo dei russi e una berlino dove non c'è in di più praticamente quasi nulla e dove un esercito tedesco completamente allo sbando come tutti gli eserciti sconfitti uccide senza senso e diciamo che in quelle ultime pagine con una rocampolesca fuga dalla pomerania e dice come dicevo prima un ritorno nella berlino devastata o scopriamo in poche pagine tutto quell'orrore che prima su cui prima non si era soffermato qui invece non ci risparmia nulla lui stesso uccide a volte senza senso a volte per difendersi immerso in una realtà orribile e folle dove tutti sono in preda alla follia lui a un certo punto lo dice siete tutti pazzi ma io no ma in realtà è pazzo anche lui non ho preso da una specie di febbre e non riesce a fermarsi fino ad un finale che io oserei dire splendido nel suo orrore veramente inimmaginabile ecco io questo libro diciamo lo straconsiglio è sicuramente un libro solo per forti lettori perché non sono solo mille pagine ma la lettura è intensa e densa non è un libro diciamo è scorrevole a mio parere però deve essere proprio ripeto questo è il mio umilissimo parere da semplicissima appassionata di letteratura bisogna amare profondamente la letteratura per immergersi in un romanzo il cui argomento è tostissimo le citazioni i riferimenti anche sono molto intellettuali e complessi anche se poi sta al lettore approfondire non approfondire o semplicemente leggerlo e come dire apprezzarlo per la sua mi verrebbe da dire tragica bellezza veramente bellissimo mi piace dirvi perché diciamo di più non saprei dirvi in quanto essendo io non assolutamente non una specialista ecco forse però queste parole val la pena di leggerle qui dice grande non leggo niente di diciamo di spoiler ma diciamo che è un qui viene definito come un grande affresco un grande affresco epico e tragico non un romanzo storico ma una storia assoluta in cui sembrano condensarsi i temi di tutta la letteratura occidentale dall'orestea di eschilo a vita e destino di vasi grossman le benevole ci fa rivivere gli orrori della seconda guerra mondiale dal punto di vista terribile ripugnante dei carnefici trascinato dalla corrente della storia inseguito dai fantasmi che come le furie benevoli dei greci le eumenidi cercano vendetta maximilian e parte di noi la parte più nera e forse l'impresa e lo scandalo di questo grande romanzo come ha scritto lo storico pierre norà sono proprio quelli di ricondurre ricondurre all'umano l'inumano totale niente un libro che io consiglio ringrazio la mia carissima lorena amica che abita a turino e che diciamo io ho conosciuto nel paesino della liguria dove vado al mare da tanti anni ringrazio questa mia giovane amica per questo meraviglioso consiglio di lettura che consiglio veramente a tutti voi perdonate la mia imprecisione il mio non essere specialista sicuramente un libro di grande rilevanza letteraria e storica e forse anche etica che non sono io la competente per commentarlo come si deve naturalmente vi invito ad andare a vedere recensioni ben più dettagliate e interessanti della mia grazie per una volta sono stata proprio seria però vi mando comunque un bacione grandissimo e ci vediamo presto con un altro di questi miei piccoli video bacioni grazie a tutti